Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina, Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa, e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, sono sempre tra l'incudi nel martello, ma poi tu sei spuntata alla finestra, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, di cucina vinci sempre tu, Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, di cucina vinci sempre tu, Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena, Teresa invece onesta, si limita e si presta, a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro, invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, di cucina vinci sempre tu, Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, di cucina vinci sempre tu, Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu, Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Siamo in diretta, ma ditemelo, ma ditelo. Ciao a tutti, benvenuti a Fisermonicano, siamo particolarmente allegri in questo appuntamento perché festeggeremo anche un compleanno, si stanno avvicinando le feste natalizie, sono con una bella signorina e ho un carissimo amico come ospite. Ciao a tutti da By Marco, ciao Antonella e ciao Dario. Ciao Marco, ciao. Ben ritrovati. Dammi la mano così che non si vede sotto. Così che non si vede bene. Non si vede bene. Sai che abbiamo in regia? Mister X. Aia. Salutiamo Michael. Dove è Michael? È ammalato, è influenzato, ci sta guardando in questo momento. Ciao Michael. Ti salutiamo tutti il nostro bambinone. E beh sì, come il 50% di tutte le persone. Purtroppo c'è questa influenza. Certo, purtroppo, purtroppo. Sperate che mi metto a posto qua l'archettino. Allora abbiamo in regia questa sera Misteris, mi costerà una cifra. Sì, sì. Però va bene, insomma la diretta deve andare avanti. Antonella come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì, oggi è una giornata un po' particolare. Un anno in più. Hai un anno in più. Ce l'ho. E poi c'è Dario. Mi tocca. E poi c'è Dario che è giovanissimo, bravissimo, non sapevo che già vi eravate conosciuti. Molti anni fa, lui molto più giovane, un bravissimo fisarmonicista, adesso ho visto che va alla grande. Sono passati un po' di anni. un po' di anni, sì. Però proprio ci siamo ritrovati. Sempre in forma. Grazie, grazie. Allora Dario lo presentiamo, è dell'Oltrepopavese, è un carissimo amico da anni fa parte dello Stabba in Marco e predilige il genere Allagiraldi. Esatto. Parato giusto o parato male? Giustissimo perché per me Castellini è il mito. Ma non solamente per te. Ma penso che anche per tanti altri fisarmonicisti. Hai un gruppo tutto tuo insieme ad altri ragazzi. Esatto, siamo quattro ragazzi, siamo io, fisarmonica, tastiera, voce, per quel che posso fare. Poi c'è Leonora, cantante. Che salutiamo. Ciao Leonora. Bacione. Poi c'è Gianfranco, la batteria. Dato anche il ragazzo, vabbè. Mister Gin, degli amici. Ci siamo beccati su Facebook. Esatto. E poi c'è Samuele, mio braccio destro, tastierista e cantante. Ciao Samuele, amico anche di da tanti anni. Allora, Dario, questa sera ci esibirai quattro motivi, però ricordi che vogliamo dedicare a tutti Antonella. tutti per lei. Stasera sono... Dopo tanti anni che non ci vedevamo mi sembra anche giusto. Diciamo dopo, l'abbiamo già detto il motivo? Sì. No, ma lo diciamo, non c'è mica, non c'è nulla da nascondere. È il mio compleanno. Facciamo l'applauso, tutti lo staff, tutti lo staff. Abbiamo la torta, il vino. Abbiamo tutto, abbiamo tutto. Dopo ci sarà anche il cameriere che ci servirà il vino e la torta. Poverino. Fa un po' tutto anche lui. Allora, vogliamo partire ufficialmente perché abbiamo tantissime richieste, abbiamo tantissimi sms, dobbiamo ascoltare Dario. Anzi, ricordiamo i numeri in sovrimpressione sono qua sopra. Quindi chi vuole telefonare, sms oppure il numero fisso di ByMarco. Il sito, attenzione, siamo collegati. Lo diciamo? www.bymarco.com Poi? Poi www.fisarmonicando.it Yes. Ha studiato. Ha sgammato. Come fai a fregare? ho studiato, ho studiato. È vero, è vero. Poi gli amici di Facebook, vi ricordo Fisarmonicando e poi Marco Casalda che sono io, io vi ringrazio perché veramente non è una frase fatta, Antonella, hai visto i messaggi, le chiamate sono veramente, veramente tante. Voi continuate a chiamarci, noi vi accontenteremo. Certo, nel possibile si accontenta tutti. Partiamo ufficialmente? Partiamo, il primo pezzo ce lo presenta Daniele Donadelli, è per voi da Fisarmonicando e poi cosa arriva? Il nostro Darione Galti con Scabroso, un waltzer che ho scritto Scabroso? Scabroso. Scabroso. È così stasera? Ah beh, ha già assaggiato il vino. Ha già assaggiato il vino. Ha già assaggiato il vino. Le anguille del po'. Cioè... Agro di Grazie a tutti. 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 Siamo ritornati in diretta con Fisarmonicando. Viva la musica da ballo, Paolo da Taranto, bellissima la Puglia, un saluto, un caro saluto a Paolo. Ciao, è in Puglia Taranto. Taranto, certo, sulla punta. Infatti, è così, è oggi. Grande Marco e grande il programma, sto guardando su Carpe Diem, un saluto da Ivan Facebook. Sì, è vero, perché in questo momento noi stiamo andando in diretta, oltre naturalmente su Sky 932, anche su Carpe Diem Sat, quindi ci vedete in tutto il mondo digitando www.carpe diem sat.eu. Ciao, grazie. Ancora uno, dunque, sono Maria, sono di Patti, ti seguo da quando sei venuto ospite dal mitico Santa Maria, sei unico. Ecco, questa arriva dalla Sicilia, ciao Patti, ti abbraccio forte forte, in aprile torneremo in Sicilia, quindi in provincia di Messina, in un bellissimo teatro, con un Fisarmonicando, quindi vieni a trovarci. Ne facciamo un'altra? Ne facciamo un'altra? Ciao Marco, complimenti da Enrico di Bentivoglio, Treviso. Ci siamo conosciuti a Ciserano e a Stradella, un abbraccio alla mia mamma, vi guardo sempre. È vero, è vero, è vero. Ciao, bacione, siamo andati, hai visto, dalla Sicilia alla parte opposta, è Treviso, quindi insomma. È la potenza di Fisarmonicando. È il satellite, è tutte le emittenti che trasmettano. Intervistami Dario. Intervisto Dario, il signor Dario, allora, ho visto di là un bellissimo CD. Sì. Sono tutti i pezzi tuoi. Sono tutti i pezzi miei. La mia Fisarmonica. La mia Fisarmonica, edito dalle edizioni SA Project. Di Sandro. Di Sandro Lario. Sono dei brani suonati, sermoniche, ci sono quattro brani cantati, tra i quali ci sono alcune collaborazioni con Villani, l'orchestra di Giorgio Villani, con Alex Villani, con Fran Calai e Omar, insomma, un po' di artisti vari. Bene, bene. E poi ascolteremo quindi altri video, altri pezzi di questo bel CD. Molte serate, avete in programma qualcosa di particolare? Sì, diciamo che lavoriamo abbastanza bene. Bene, adesso poi ci avviciniamo quindi a Natale, a Capodanno, a tutte le feste, quindi tantissime serate. seguite Dario e tutta il gruppo, Eleonora Gruppo e tutta la benda. Io colgo l'occasione, sto pensando alla torta, io colgo l'occasione per salutare Alex Villani, al quale voglio molto bene, lo dico ufficialmente perché tu sai, l'ho cresciuto sotto un certo aspetto. Quindi ciao Alex e grazie per la tua amicizia. E poi un abbraccio forte forte al papà Fabrizio Villani. Ciao Fabri, venimi a trovare in bocca al lupo e una pronta guarigione. Questo detto dal cuore, quindi lo dico in televisione e Dario sa anche le motivazioni. Quindi ciao Alex e ciao Fabrizio. Adesso però, chi c'è? Visto che è il mio compleanno tocca a me. Insomma, un pezzettino. Non tirartela con questa baciata. Ma assolutamente. No, così portiamo un po' di sole. Guarda, la musica è anche terapeutica, no? Infatti, chi ascolta la musica, chi segue Fisarmonicando, non prende l'influenza quest'anno. Questo lo dico ufficialmente. È certo, la musica è terapeutica. Quindi l'influenza è proprio zero. No, 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 l'allegria. No, 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 assolutamente. Quindi facciamo una bella baciata. E poi? Che vi porta in mezzo al sole. Quindi Antonella, baciata nel sole e poi un grande, Giuseppe e Santa Maria. Quindi due bellissimi video. Vai, vai, vai. E tornate a Fisarmonicando in diretta. Siamo noi tre. Siamo tre. Il mio pensiero vola e va, in questo cielo di nuvole. Lascio alle spalle tutto il grigio che c'è, tra poco sono da te. Ogni estate là, ci ritroverà, nel nostro mondo fantastico. Un paradiso di favola, la mia vacanza con te. A piedi nudi riva al mare, sulla sabbia ballo la baciata con te. Il profumo dell'estate sulla pelle mi travolge sempre più. Un desiderio che ritorna sempre non mi lascia più. Dentro il mio cuore è sempre il sole e c'è, se sono baciata da te. L'estate presto finirà, dolci ricordi nell'anima. Dovrò tornare alla mia vita in città, ma quel che certo sarà. Ogni estate là, ci ritroverà, nel nostro mondo fantastico. Un paradiso di favola, la mia vacanza con te. A piedi nudi riva al mare, sulla sabbia ballo la baciata con te. Il profumo dell'estate sulla pelle mi travolge sempre più. Un desiderio che ritorna sempre non mi lascia più. Un desiderio che ritorna sempre più. Dentro il mio cuore è sempre il sole e c'è, se sono baciata da te. Un desiderio che ritorna sempre più. Un desiderio che ritorna sempre più. Un desiderio che ritorna sempre non mi lascia più. Un desiderio che ritorna sempre non mi lascia più. Se son baciata da te, se son baciata da te, se son baciata da te. 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 E' un appuntamento stupendo. Se son baciata da te. Vi aspettiamo il 18 di dicembre alle 21 al San Dolo Cinese di Stradella con 10 più 10. Perfetto. Andiamo subito in pubblicità. che dici. non so, hai dagli sms. ho ancora due sms. Allora, un saluto da Ines di Parma. spunta da te. E' un saluto da te. grazie a te. pepe. Ciao, 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 ciao. Pepe. Ti ringrazio, so che ci segui sempre e continua a farlo perché poi, come ripeto, andremo a toccare anche la maestro Giraldi con dei video storici. vi ripeto avremo con noi Laura Piva quindi un appuntamento dedicato al grande Sandrino insomma fisarmonicando molto vario per tutti i gusti per accontentare abbiamo Dario Gelfi dell'Oltrepo Pavese fisarmonicista doc giusto? doc doc andiamo in pubblicità poi torniamo con Giuliano e Baroni è giusto poi c'è Dario poi c'è Dario è tutta un'altra musica con le fisarmoniche by Marco esclusivamente a Stradella in via Martiri Partigiani al numero 34 telefono 0385 40 501 web www.baimarco.com fisarmoniche by Marco la fisarmonica dei numero 1 non c'è Dario Eccoci qua amici di Fisermonicando, caro Sandro, anche questa sera parliamo della ditta Panda. Del nostro amico Angelo, perché parliamo di Panda? Perché lui è l'unico in tutta Europa a aver creato queste console per i camionisti italiani. Console lavabili per ogni tipo e marca di camion. Anatomici. Ma cosa serve? Serve, lo sappiamo, il camionista si ferma in autogrill, deve mangiare, che ne so, bere una bottiglia di vino e dove appoggia il tutto. Appoggia qui sopra, perché queste console lavabili, molto importante, perché sono fatte per ogni marca e modello di camion. Certo, quindi ogni logo di camion. Ma il nostro carissimo amico Angelo non ha fatto solamente questo, ha fatto anche cosa? Ha fatto anche per esempio il coprimaniglione, eccolo qua, lo faccio vedere. Il copriporta oggetti, tutte cose per ogni modello, ricordiamolo che è molto importante. E poi cosa ha fatto? E poi Giorgino me lo farà vedere? Il copricofano con la donna che si illumina. Quello che lampeggia. E infatti adesso guarda, sta lampeggiando, guarda che bello. Allora, camionisti italiani, questi prodotti potete trovarli nelle autogrill italiane, ma telefonando allo 0385 27 75 52, ripeto, 27 75 52. O se no www.ciabattificiopanda.it. Ricordatevi Ditta Panda, dall'amico Angelo, a Campo Spinoso, in provincia di Pravia. Ciao Salvino. Ciao. Ciao, ciao. Viva la Pisa, viva la Pisa, che impazzire ti farà. La suoni in piedi o da seduto, l'importante non aver bevuto. Viva la Pisa, viva la Pisa. Questo brano è offerto da Edizioni Musicali Bagutti, Via Lavelli 14, Piacenza. Telefono 0523 60 34 10 www.bagutti.it Ci sono certe notti in cui vorrei andare via, rimango sola in casa e piango alla malinconia. Io penso ancora a lui e non mi accorgo che un vero amico non basta più. Io in quelle notti vorrei restare accanto a te, portarti via con me, magari proprio riva al mare. Dormiremo insieme, solo questo e niente più, fin quando il giorno ci sveglierai. Insieme per la vita non ci lasceremo mai, questa favola infinita sempre insieme ci vedrà. I ragazzi che si amano e si fanno compagnia, sono stelle nella notte che nessuno svegnerà. Insieme a te camminerò e piano piano insieme a te vivrò. Insieme a me camminerai e insieme a noi non ci lasceremo mai. Ho lasciato che volassi nel tuo cielo in libertà, perché l'amore sa aspettare quello che non ha. Le tue armi sono stanche, il mio lido è ancora qua e sempre qui ti aspetterai ancora a noi. Insieme per la vita non ci lasceremo mai, questa favola infinita sempre insieme ci vedrà. Insieme a me camminerai e piano 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 insieme a te vivrò. Insieme a me camminerai e insieme a me camminerai e insieme a noi non ci lasceremo mai. I ragazzi che si amano e si fanno compagnia, sono stelle nella notte che nessuno svegnerà. Insieme a me camminerai e insieme a me camminerai e piano piano insieme a te vivrò. Insieme a me camminerai e 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 insieme a noi non ci lasceremo mai. Io voglio dire una cosa in diretta Michael ci sta guardando Michael non parla mai Questo qua che arriva da Mediaset Mediaset, Medioth Per tutto, potete parlare lui Avete notato? Abbiamo notato Però sta lavorando bene anche lui Adesso ha perso un po' di condizione Perché tagliandoli i capelli Anche lui perde Chi è che tagliandoli i capelli perdeva un po' Sansone Lui è come Sansone Lo chiameremo Sansone allora Allora dai Dario Parliamo un po' di questa formazione Giovane, siete un quartetto Sì, giovane Sì, giovane nel senso Sì, sì Bastelli è più anziano 33 anni Più giovane di così Noi siamo i genitori Eh, insomma No, no, sì Siamo un po' più Siamo in formazione Siamo otto anni Che lavoriamo insieme Beh, poi Gli anni passano Gli anni passano Però, vabbè Siamo affiatati Ci troviamo bene Andiamo d'accordo Quindi Allora ti toccare un po' tutti i generi Un po' tutti i generi Sì, spaziamo dal liscio Tradizionale E poi Diciamo un po' i latinoamericani Gli anni 60 Il batterista è proprio specializzato negli anni 60 Perché è il suo genere La sua epoca Diciamo E poi Anni 70, 80 Insomma Un po' di tutto Tocchiamo un po' tutti i generi Musica da ballo Musica da ballo Facciamo anche un po' musica d'ascolto Dipende un po' Dalle serate Dalle serate Anzi, da quest'anno è nata la collaborazione così Casualmente Casualmente E per la Lombardia Non casualmente voluta Certo E per la Lombardia siete diventati l'orchestra ufficiale di Fisarmonicano Quindi quando noi gireremo in Lombardia E in Liguria In Lombardia L'orchestra ufficiale è quella di Dario Va bene Poi adesso siamo in Tancantonella Quindi faremo questo spettacolo Sì, sì Facciamo una famiglia allargata Che va benissimo Anto, che accade ora? Accade Dunque, Dario adesso c'è un tuo video Tocca a me Di una mazzurca Adesso qui chiediamo Ma no, qui è un po' rischiolo Chiedere No, no Ma no, chiediamo Insomma Dunque il titolo è Serena È un nome di Serena Di donna Lui sa già Lui sa Che purtroppo Noi musicisti abbiamo un vizio Ma va È dedicata a una ragazza seria Una ragazza un po' seria Molto serena insomma Molto Sicuramente serena Ma siamo in tutto il mondo adesso No, no, infatti Questa è un'azienda seria Non è che possiamo parlare di Tocca a spilo Dove vado anch'io Sì, no, infatti Non volevo proprio entrare nel merito Che famiglia dei pazzi Benissimo Comunque è quello È dedicata a questa ragazza serena È serena la mazzurca Dario Gelfi E poi un bel video di Marco Valenti Che salutiamo Ciao Marconi Bacione anche te Ciao Marconi Ciao Marconi Ciao Marconi Ciao Marconi Ciao Marconi Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 cd. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Udine. l'ho invitato. a tutti. metteremo in onda. quando gli a tutti. gli sguardi, conto. che, gli sguardi, e le carenze, a tutti. a tutti. si fa. a tutti. in piedi, fanno, e, l'agri bellissimo. a tutti. e, Pezzoni computer, è in corso, vicini, Marco, Stare da Fabio Bergo, può farlo direttamente mandando una mail fabiobergo83-alice.it Ci aspetta la torta. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.